ciao bentornati sul canale allora questo è il primo video del giro che abbiamo fatto in francia quindi gli acquisti che abbiamo fatto in francia abbiamo trovato un negozio che aveva si chiama action e aveva queste matchbox ci sono anche da noi gli action store sono questi mega negozi tedeschi e da noi in realtà lo mettono su un euro e qualcosa lì quasi due euro macchinina matchbox a noi costano un po meno e io ho trovato queste qua non sono di quest'anno sono da anno scorso se non sbaglio per quest'anno hanno il simbolino dei settant'anni però sono macchina che non avevo almeno penso è almeno penso quindi hanno fatto un po di acquisti questa è la prima ed è la matchbox international terrastar praticamente sono le ambulanze americane perché la usano così con diciamo praticamente sono dei vigili del fuoco tipo sono rosse sono i paramedici li chiamano eccolo qua questo qualità mi sono un po mal conciami sempre siamo un po tutta storta non so se è la scatoletta che la schiaccia così facciamo una cosa abbiamo la così viviamo la testa al toro dai ma si suol dire vediamo se tornare indietro non ci torno perché abbiamo fatto un sacco di chilometri sono nati in francia abbiamo fatto un bel giro siamo a caccia di macchinine no a posto vediamo un po tutta plastica è questa è latta e questa tutta plastica vabbè sì non è che sia il massimo forse fatta così eh sì macchinine da poco stanno diventando il matchbox peccato questa qua proprio da poco poco va bene almeno non è rotta poi abbiamo trovato vediamo un po questo il scevi c10 guardate che bella l'ho preso perché ovviamente bello davanti come dettagliato dietro bellissimo sto scevi c10 sto pk americano poi lamborghini lm 02 002 questo qua era già uscita nella versione gialla diciamo delle macchine dedicate auto italiane questo in grigio metallizzato ok poi la mazda rx 8 del 2004 in rosso ma magari poi ce l'abbiamo già queste ma chissà però guardate che bella bene allora vediamo le altre non ho prese tutte tutte perché ho detto ma non ero tanto felice poi questo quale il camion da spazzatura garbage king che abbiamo già in altre colorazioni abbiamo presa anche questa è qua sicuramente pitturare i fanali lì è sì poi la porsche 9 unici targa 4 4 penso di avercela già però vabbè una in più la prima questa qua forse l'ho presa anche in diciamo blisterata vediamo un altro questo qua 2024 è essi eccola qua questa blisterata è una diciamo una scatoletta e lei e lei così almeno una possiamo aprire l'altra possiamo tenere una scatoletta 2024 sì sì nuova nuova abbiamo visto l'altra volta quando ho fatto il video sul bottino mettiamo lì il video su quel bottino di macchinina compreso bellissima poi questa è la jeep avenger in giallo anche questa è una novità eccola qua bene poi questa è una diversa colorazione jeep willys jeepster guardate qua in blu ce l'abbiamo anche in bordeaux mi sembra bella e la opel card cgte in questo verde qua il verde che usavano una volta in quegli anni lì si usavano questi colori un po pastello c'erano già anche in arancione quindi questa è la presa questo negozio che si chiama action che ce n'è anche la catena sono anche in italia quindi date a cercarle action proprio come azione negozio che viene un po di tutto e all'interno hanno di solito giocattoli brutti cinesate ma hanno anche le matchbox e le mettono a buon prezzo soprattutto solitamente hanno le matchbox quelle in scatolate e adesso hanno questa serie qua questa serie blisterata quindi niente questo è il primo video del bottino che abbiamo fatto nel saccheggio che abbiamo fatto in francia siamo andati in francia qualche giorno abbiamo trovato un po di tutto non tantissimo però speso un bel botto perché la costano un po più cari adesso quindi stiamo organizzando tutti i video quindi mi raccomando se ne ancora fatto lì iscriviti al canale suona la campanina lasci un commento qual è che preferite tutte queste se preferite le matchbox le hotwills e ore maggiorette e niente ci vediamo la prossima con un nuovo video si fa piacevole anche quei video lì e ci vediamo al prossimo abbiamo tanti tanti video da farvi vedere ciao